Eccoci qua, faremo un piccolo esercizio oggi per spiegare i puntatori e poi vedremo magari anche il passaggio di parametri per indirizzo alle funzioni. Cominciamo comunque con i puntatori, creiamoci un primo progetto, al solito, per lavorare, console application, go, next time lavoriamo in C++, next lo chiamiamo puntatori. Ok, 0-1 dai, next, tutto a posto, finish, allora apriamo il nostro main, magari lo ingrandiamo anche un attimino, eccolo qui, così lo vediamo bene tutti. Allora vediamo, allora di cercare di capire quello che vogliamo fare adesso. Allora, ad oggi noi sappiamo che se dichiariamo una variabile, ad esempio int x, dopodiché andiamo in cout, cout x, postiamoci già a capo direttamente, visualizzeremo, vogliamo visualizzare il contenuto, quanto vale la variabile, quindi il contenuto della cella di memoria che viene assegnata a questa variabile. Allora, prima di compilare disattiviamo temporaneamente Avast, facciamo per un'ora, basta sicuramente di meno, ma altrimenti mi crea problemi. Quindi, compiliamo ed eseguiamo, ecco qua, all'interno di questa cella di memoria, questa variabile adesso vale 4, 3, 5, 4, 1, 9, 0, un valore che per noi non ha nessun significato. Però, se assegniamo alla variabile, ad esempio, il valore 5, ricompiliamo ed eseguiamo, ecco, abbiamo 5. Cosa succede invece se adesso andiamo a scrivere un'altra cosa? Cout e commerciale x, poi facciamo magari un paio di spazi, e x. Andiamo a vedere cosa succede. Compiliamo ed eccolo qua. Otteniamo un codice di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifre esadecimali. Quindi, questo codice non è altro che l'indirizzo della cella di memoria in cui è contenuta la variabile x, che vale 5. Quindi abbiamo visto, vediamo in questo modo, che quando noi andiamo a dichiarare una variabile, per vedere e individuare esattamente qual è la cella di memoria, l'indirizzo della cella di memoria in cui viene salvata la variabile, è sufficiente anteporre all'identificatore della variabile la e-commerciale. Vediamo un'altra cosa adesso, d'accordo? Andiamo a dichiarare un'altra variabile e la dichiariamo in questo modo. Punt x Cosa stiamo dichiarando? Stiamo dichiarando una variabile puntatore. Cos'è una variabile puntatore? Una variabile puntatore è una variabile che contiene l'indirizzo di una cella di memoria di un'altra variabile. Allora, quindi questa variabile che ho chiamato puntatore di x, questa variabile voglio che la dichiaro in questo modo e voglio che contenga l'indirizzo della cella di memoria dove è salvata la variabile x. Per dichiarare una variabile di tipo puntatore bisogna usare questa sintassi int intero, perché? Perché x, che sarà la variabile contenuta nella cella puntata da puntatore di x, è di tipo intero. Quindi ci deve essere una corrispondenza tra il valore della variabile contenuta nella cella e il valore della variabile puntatore che punta quella cella. Dopodiché, per significare che è una variabile puntatore, ci va questo asterisco. Quindi int asterisco punt x, puntatore di x. Allora, una variabile puntatore, quindi possiamo segnare un indirizzo. Quindi, punt x, prima l'abbiamo dichiarata, adesso dobbiamo dire che è la variabile punta, ma che cella di memoria punta, uguale il commerciale x. D'accordo? E quindi vogliamo dire che nella variabile puntatore, in questa variabile, andiamo a copiare dentro l'indirizzo della cella di memoria della variabile x. Quindi punta alla variabile x. Come facciamo? Data la variabile puntatore, che contiene l'indirizzo della cella di memoria a cui punta, a conoscere il valore contenuto in questa cella di memoria, quindi l'appuntatore di x. Qual è il valore di x, però? Allora, possiamo scrivere in questo modo. cout asterisco punt x e andiamo anche a capo. compiliamo ed ecco qua seconda riga vedete esattamente il valore di x viene visualizzato il valore di x possiamo anche qua scrivere in questo modo cout.x eccolo qua ricompiliamo ed ecco qua come vedete abbiamo ottenuto esattamente le stesse cose allora x vale 5 abbiamo scritto qua su ed è nella cella di memoria di indirizzo e commerciale x questo qua dopo di che abbiamo dichiarato una variabile puntatore abbiamo detto che punta alla variabile x quindi abbiamo usato usando o meglio la variabile puntatore visualizzato la stessa cosa quindi il valore l'indirizzo il contenuto della cella di memoria è punt x e questo contenuto non è altro che l'indirizzo della cella di memoria di la variabile x mentre asterisco punt x mi identifica esattamente il valore ok vediamo adesso in quest'altro modo magari lo capiamo meglio supponiamo qua di avere una cella di memoria andiamo in home eccola qua di avere una bella cella di memoria facciamola ok e questa è la nostra x a cui vale 5 abbiamo detto che in x ci mettiamo il valore 5 questa cella di memoria ha un certo indirizzo ind x chiamiamolo indirizzo di x è il nostro indirizzo esadecimale poi andiamo a crearci abbiamo detto un'altra variabile puntatore che abbiamo chiamato in questo modo punt x ok questa è l'altra variabile puntatore e abbiamo detto che una variabile puntatore non è altro che una variabile che contiene l'indirizzo della cella puntata quindi qua dentro cosa ci dovremmo mettere l'indirizzo di questa cella che abbiamo detto ind x quindi qua abbiamo in x qual è il valore a cui punta int x a x e quindi ci risiamo avete visto un pochettino come ci si può giocare torniamo al nostro codice ecco penso questo esercizio che lo possiamo concludere vedremo magari nel prossimo come cioè l'utilizzo alla fine del passaggio per indirizzo quindi di questa notazione nelle funzioni usando le funzioni per indirizzo